Buongiorno, benvenuti al Prego di Westin Pole Lumpur. Questo è il primo tato in giornata di mattina. Immagino potete trovare anche il tato britannico. Perchè crei questa piazza? Targo di rendita felici. Che si vedono... e una coppa di coffe. La gente finisce l'office di lavoro a circa 5.30 e stanno guardando un piacere più salto. E con questo set, puoi esplorare tutto il mio paese, dal sud al nord. Dal sud hai il mini calzone, il rustico, la bruschetta, la pocaccia e dal nord hai il tiramisu, la panna cotta, il panettone e il crostoli. Grazie a tutti!